Salve a tutti sono Vodka4ScienceZ e oggi vediamo recensione della birra fiera di Tombi 2 Cerdos Voladores Come vedete ve la faccio vedere un pochino più da vicino cercando di Ecco farlo inquadrare bene Be Cerdos My Friend Vedete il maialotto qua Certo io lo inizio sul fatto che sia la birra ufficiale di Tombi 2 In realtà non è la birra ufficiale di Tombi Vedete cosa c'è scritto qua sotto? If you are looking for a scene This is it Disfrutta la vita Si ho detto proprio in maniera bella Champagne Craft beer Qui cosa dice la Cos'è che dice la India Pale Ingredienti Poi qua dice la birra speciale 6% volume Ingredienti acqua, malto, orzo Da consumarsi per non disperdere nell'ambito Dopo l'uso Allora Dicevo Io lo inizio dicendo la birra ufficiale di Tombi 2 Perché l'abbiamo vista Almeno l'ho fatta vedere Nel gameplay di Red Flame Fox Su Tombi 2 insieme al tizio Quindi adesso la proviamo Vediamo se riesco ad aprirla Ecco qua Minchia, l'ho agitata prima ecco perché Vabbè E la proviamo Mmm Sapore Dolce C'è mente fortino La birra Sembrerebbe Sì, è rossa Sì, è leggermente rossa Buona cacchio Proprio buona E niente Questa è una birra dei veri gamer Da VodkaVolScienceZ è tutto Ci vediamo alla prossima Ciao Sì, è leggermente rossa